Cari lettori di Xtreme Hardware, questo è il video di presentazione del cabinet Full Tower Cooler Master Silencio 650 Pure. Un cabinet elegante per quanto riguarda le finiture esterne, ma soprattutto interessante per quanto riguarda la presenza di materiale fonisolante nella paratia destra, paratia sinistra, paratia frontale e paratia superiore. Quindi nel complesso permette di eliminare o meglio di ridurre in maniera forse un po' troppo limitata come vedremo i picchi di frequenza. Comunque sia la presenza di materiale fonisolante è sempre un punto a favore di questi modelli. Per quanto riguarda le dimensioni complessive, 207 mm in spessore, 479 mm in altezza e 525.6 mm in lunghezza. Per quanto riguarda il peso, si attesta attorno ai 13 kg e questo è un quantitativo davvero importante, però dobbiamo considerare la presenza di un telaio in acciaio ma anche di alluminio nella parte frontale. Perché alluminio? Innanzitutto qui potete vedere, ma soprattutto nelle fotografie della recensione, che è chiuso. Per quale motivo? Perché l'aria viene aspirata da queste fessure di ventilazione presenti in entrambi i lati, ma anche perché è presente un pannello fonisolato nella parte frontale, che maschera tre slot da 5.25 pollici e soprattutto due ventole da 120 mm montate nella parte anteriore. Qui infatti è presente un sistema di aggancio a rimozione rapida, perché bisogna tirare verso il basso, tirare fuori. Si leva questo sistema che appunto presenta un filtro nella parte intermedia, un filtro che tra parentesi può essere pulito in base alla rimozione di questo frontalino in plastica rigida, mediante appunto una rimozione con quattro perni a scatto. Quindi in sostanza c'è una compatibilità frontale con due ventole da 120 mm e questa è un'ottima cosa, perché infatti le performance, nonostante il cabinet sia chiuso, sono discrete. Ovviamente discrete per quanto riguarda la nostra piattaforma di test e i nostri test, che sono particolarmente avanzati per un motivo, perché abbiamo testato dei modelli che sono davvero molto costosi e molto potenti. Quindi questo cabinet riesce ad attestarsi nella fascia media di quelli che abbiamo testato noi, però ovviamente c'è da considerare questo elemento. Le performance quindi sono valide. Un particolare interessante è che ad esempio qui nella parte frontale è montato un fan controller con potenziometri. Come possiamo notare, fanno un leggero contatto con la parte frontale, appunto con uno spessore di materiale fan isolante. Però, nonostante questo, si chiude perfettamente, quindi questo è un punto a favore. Per quanto riguarda il telaio, quindi troviamo acciaio, è un design moderno per quanto riguarda la parte posteriore. Sono presenti due fori di installazione per il passaggio di tubi a liquido, una singola mentola a 120 mm, e poi 7 più 1 slot di espansione, questo qui ad esempio è laterale per il montaggio di un fan controller e alimentatore nella parte inferiore. Oltre a questo, è presente nella parte superiore un sistema a camino apribile, poi i consueti ingressi, sempre nella parte superiore e dalla parte frontale, che però potrete osservare direttamente nella recensione scritta con tutte le fotografie. Per quanto riguarda lo scorrimento delle paradiglie, beh, è niente di più semplice, scorrono davvero in modo esemplare. Ovviamente è presente del materiale fan isolante nella parte interna, poco spesso, però il suo lavoro, come vedremo nel corso della recensione scritta, lo farà. Questo è il cabinet nella parte interna. Qui ovviamente è stato già assemblato tutto quanto, è presente un alimentatore FSP da 1 kW, una scheda video GeForce GTX 480, ma soprattutto una scheda madre EATX. Bene, cosa riporta il foglio di installazione che troviamo all'interno del cabinet? C'era qui da qualche parte, ecco, motherboard type, micro ATX e ATX. Quindi in sostanza non c'è lo standard EATX, come è possibile? Bene, non ci interessa perché comunque sia, è compatibile. Infatti questa scheda madre è una Rampage 2 Extreme, perfettamente compatibile con questo modello. C'è da notare, ecco, un particolare che adesso osserveremo più nel dettaglio, che appunto viene mascherata in parte questi fori passacavo. In sostanza quella zona viene, non è diciamo possibile inserire cavi particolarmente spessi, anche se all'atto pratico è ininfluente perché qui abbiamo inserito un connettore da 24 pin nella parte superiore. Eccolo qui. Qui possiamo notare il sistema di blocco delle periferiche, blocchiato, aperto, quindi veramente di una facilità disarmante. Qui era presente un cage per gli hard disk. Infatti per quanto riguarda gli hard disk, adesso faccio un attimo un zoom out. Per quanto riguarda gli hard disk, troviamo una compatibilità con sette modelli nella parte interna. Infatti sono presenti tre slot nella parte inferiore, come potete vedere. Lì è installato un SSD. Ma soprattutto è presente questo. Quindi c'è un cage supplementare che va inserito direttamente qui all'interno. Sì c'è un sistema di blocco. Comunque sì, insomma, va inserito lì all'interno. Adesso avevo smontato tutto quanto. Quindi in sostanza sono sette hard disk da 3.5 pollici, ma soprattutto anche tre hard disk da 2.5 pollici che sono nascosti, e due dei quali sono convertibili da una periferica da 3.5 pollici. È presente anche un adattatore da 3.5 a 2.5. Il sistema di ancoraggio di dischi è molto valido perché presenta appunto un sistema di aggancio. Sistema di aggancio. Aspettate un attimo che sto cercando una cosa che non la faccio vedere immediatamente. Allora, innanzitutto questo qui è un sistema fornito da Cooler Master che permette quindi l'installazione di un hard disk da 2.5 pollici. Il sistema di bloccaggio dei dischi è classico, anche se non è presente un frame in blocco unico. In sostanza deve essere inserito il disco all'interno e inserito all'interno di questo cage per il hard disk. Il sistema è molto stabile, però sarebbe consigliabile l'utilizzo di un sistema che avesse una struttura intera come ad esempio questo qui, che poi troviamo nella maggior parte dei gabinetti in circolazione. Comunque sì, è rilevante e niente. Per quanto riguarda le prestazioni, quindi troviamo due ventole a 120 mm nella parte frontale e purtroppo la compatibilità con i radiatori è limitata allo standard da 120 mm in questa sezione, anche se invitiamo assolutamente a controllare le distanze perché potrebbero esserci grandi differenze per quanto riguarda la compatibilità tra i diversi modelli. Il dissipatore che è stato installato qui è un Thermal Right True Spirit 120, altezza 159 mm o 157 perché dipende, sono presenti diversi modelli in commercio, il True Spirit 120 di Thermal Right, ma anche il Co-Gauge True Spirit 120. E abbiamo notato che Thermal Right ha addirittura rilasciato una terza versione che presenta una nichelatura sia dell'heat pipe che del corpo dissipante, insomma una giungla. Comunque sia, questo è il primo modello. Per quanto riguarda quindi le tolleranze, Cooler Master specifica un'altezza massima per il dissipatore di 162 mm, un'altezza massima per la scala video di 268 mm con il cage e di 434 senza cage, quindi come in questo caso 434 mm, una cifra davvero gigantesca. massima compatibilità per quanto riguarda gli alimentatori e anche per quanto riguarda le ventole, anche se troviamo due ventole da 120 frontali, una ventola da 120 superiore ed è anche possibile montare una ventola da 120 mm nella parte superiore, volendo anche una ventola da 120 mm nella parte inferiore. però comunque sia, insomma, è un discorso che non consigliamo perché nella parte inferiore generalmente si aspira la polvere e quant'altro. Teoricamente sarebbe possibile anche adattare un radiatore nella parte laterale, ma questo è un discorso che affronteremo nel corso della recensione. Adesso diamo un'occhiata alla paratia destra, che è vista posteriormente a quella sinistra. Qui purtroppo, data la presenza di materiale fonisolante, succede una cosa classica con tutti i case di questa tipologia, ad esempio l'FT02 Silverstone. Ecco, osservate questi segni. Questi sono dovuti al cablaggio e in sostanza c'è una compressione del materiale fonisolante. Questo purtroppo succede sempre, ma per un motivo, perché lo spessore posteriore di questi case è molto limitato. Ci sono tutte le misurazioni sul sito, comunque sia, e lo misuriamo immediatamente. Allora, lo spessore nella parte inferiore, infatti si attesta a circa 1.5-1.6 cm, scusate. Non è presente nessuna bombatura tendente verso l'esterno, questo come potete osservare è l'ingombro dei connettori e lì c'è stato, qui c'è stato il problema precedente, per via del fatto che questo connettore da 3 pin della scheda video potrebbe andare a collidere con altri, ma creando appunto quel piccolo problemino, ma comunque nulla di sostanziale. L'assemblaggio nel complesso è davvero ottimo, perché comunque sia sono presenti numerosi fori passacavo, il posizionamento è valido, soprattutto anche per quanto riguarda il connettore PS 12V per la CPU, e l'installazione degli hard disk è immediata. È presente anche un sistema di fan controller integrato, che è possibile regolare dalla parte superiore, ma troverete appunto tutti i dettagli nella recensione scritta. Questo era un semplice video di presentazione dell'unità, vi invitiamo a commentare la recensione e a farci sapere cosa ne pensate, anche perché verranno effettuate delle misurazioni sia a livello acustico che termico. Quindi niente, fateci sapere se avete gradito o meno. Buona giornata a tutti.